Ciao a tutti Qualche tempo fa avevo visto su internet alcuni video di un dragone articolato che mi piaceva particolarmente poi nella newsletter di Woodworkers Journal qualche mese fa, ottobre se non ricordo male sono arrivati i progetti gratuiti gentilmente messi a disposizione di questo dragone allora io li ho scaricati ho rimpicciolito un pochettino i disegni perché non volevo farlo molto grande e in questo video vi farò vedere la realizzazione di questo dragone articolato ci vediamo poi alla fine per vedere il risultato finale sperando che sia discreto grazie a tutti e buona visione grazie a tutti 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 grazie a tutti